TAO RELAX è il programma per lenire il cuoio cappelluto irritato che utilizza il fluido dermolenitivo e il massaggio satori. Il metodo è un vero e proprio massaggio di scollamento che prevede lievi movimenti studiati per allentare le tensioni. STEP 1 Posizionarsi alle spalle della cliente, appoggiare le mani a piatto sul cuoio cappelluto all'altezza della fronte, spingendo delicatamente e dirigendo la spinta in diagonale verso l'alto, per scollare la pelle del cuoio cappelluto in quella direzione, in diagonale verso l'alto. STEP 2 Restando alle spalle della cliente, portare le mani a piatto sul cuoio cappelluto all'altezza delle tempie e spingere delicatamente le mani verso l'alto, scollando la pelle del cuoio cappelluto verso l'alto. STEP 3 Portare le mani a piatto sull'altezza della nuca e spingerle delicatamente verso di sé, scollando la pelle del cuoio cappelluto verso l'alto. STEP 4 Ora spostarsi a lato della cliente. Appoggiare le mani a piatto sul cuoio cappelluto, una all'altezza della fronte e l'altra all'altezza delle tempie. ESERCITARE una spinta verso l'alto in modo da farle avvicinare scollando la pelle del cuoio cappelluto in diagonale. STEP 5 Restando a lato della cliente, appoggiare le mani a piatto sul cuoio cappelluto, una all'altezza delle tempie e l'altra all'altezza della nuca, ed esercitare una spinta in diagonale in modo da farle avvicinare, scollando la pelle del cuoio cappelluto verso l'alto. STEP 6 Restando a lato della cliente, concludere il massaggio appoggiando le mani a piatto sul cuoio cappelluto, una all'altezza della nuca e l'altra all'attaccatura del collo, ed esercitare una spinta in diagonale in modo da farle avvicinare, scollando la pelle del cuoio cappelluto verso l'alto. STAFFORD 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 Grazie a tutti